Un centinaio di pizze da offrire ai bambini del quartiere della zona PEP. L'iniziativa originale è dell'omonimo comitato che da tempo si sta occupando di rivitalizzare una zona se frequentata della città. Dal parco giochi di piazza Gerone alle tante iniziative messe in campo soprattutto nell'ultimo periodo. Così ieri i membri del comitato assieme al sindaco Anna Maria Casini e l'assessore Salvatore Zavarella hanno distribuito dei buoni per i bambini che li hanno spesi poi nella vicina pizzeria. Pizza gratis per tutti. Un piccolo segno che però serve a mantenere i quartieri della città vivi nell'ottica della socializzazione del gioco di quartiere soprattutto in un'era dove si tende a restare dietro lo schermo. Avete avuto il buono della pizza voi bambine? Allora pizze per tutti signora? Beh un modo per tenere in vita no questo quartiere? Per essere presenti in questo periodo in cui non possiamo fare le teste ma che sono l'ordine che abbiamo fatto da anni passati quindi abbiamo fatto il gelato e adesso la città è un modo anche per riscoprire l'importanza di socializzare in queste zone della città per non farle venire meno. No, non siamo in partecipanti, mi sembra che non c'era proprio il gioco, infatti è molto attivo, è molto presentato, ci sono tanti, 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 siamo molto contenti. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda.